Lardo di colonnato, oggi insieme a nonno prepariamo la pizza allardiata Questa pizza utilizziamo pomodoro, san marzano e schiacciata a mano Nel frattempo il nonno sta allacciando in là Per questa pizza utilizziamo il risugo allardiato che ha fatto mio nonno bello fresco, fresco Guardate qua, poi abbiamo la cialda di parmigiano croccante Alla fine un ingrediente che poi vi svelerò L'impasto contemporaneo di pizza contemporanea idratato sempre almeno all'80% Solo farina di me Prima di essere un bravo pizzaiolo bisogna essere almeno un bravo grande formaio Quindi questa pizza va cotta molto delicatamente in forno a 390 gradi per 120 secondi Arriva, 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 arriva Che paura Che bello poter mettere un piatto della tradizione napoletana sulla pizza contemporanea Che 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 Grazie.